Una festa speciale di fine estate si è svolta sulla spiaggia del Pit Bat 3 a Battipaglia, ad organizzare il tutto i ragazzi che hanno fruito della spiaggia attrezzata per disabili. Tra giochi, caccia al tesoro e divertimento hanno trascorso una giornata davvero indimenticabile. Presente è anche la presidente della consulta per i problemi di disabili, Anna Bruno, e la consigliera Rossella Speranza, che fa parte della consulta e da sempre impegnata nel sociale. Presenti anche altre associazioni in questo progetto di città inclusiva, che di certo verrà ripetuto anche per la prossima stagione estiva, ovviamente sempre migliorando le cose fatte nel passato.